Fuori l'asilo primo maggio questa mattina è un via vai di persone che lasciano fiori per il piccolo Tommaso. Qualcuno si ferma a pregare. All'Aquila è lutto cittadino, attività chiuse sino alle 11, bandiera a lutto. Sarà così sino al giorno dell'esequia del piccolo Tommaso d'Agostino, il bimbo di 4 anni che non ce l'ha fatta, morto dopo essere stato travolto da un'auto che si è sfrenata e che è piombata sul piccolo giardino dove stava giocando con i compagni all'interno del cortile dell'asilo primo maggio a Pile. Travolto assieme ad altri compagni, ricoverati tra i gemelli, i bambini Gesù a Roma e l'ospedale Aquilano per due gemelli che per fortuna sono solo sotto osservazione. Dal punto di vista delle indagini la scuola è stata sottoposta a sequestro e dopo una prima ricognizione della scientifica ieri, stamattina nuovi rilievi. La perizia tecnica sulla Passat è stata affidata, servirà a capire se il freno a mano fosse stato inserito. Intanto la proprietaria dell'auto, una donna di 38 anni di nazionalità bulgara, è indagata per omicidio stradale e lesioni con la vettura che è di proprietà di una parente. L'ipotesi che in macchina ci fosse il figlio rimasto in auto mentre lei riprendeva le altre due gemelle è stata confermata, un dolore enorme per tutte le famiglie coinvolte. Il papà di Tommaso Patrizio era stato uno dei primi ad arrivare sul posto, abita vicino. La scena che si sono trovata davanti i soccorritori e i genitori è stata impressionante e scioccante perché i bambini, almeno quattro, sono stati schiacciati dalla vettura e dalla cancellata. Questa mattina trasloco in corso perché il comune sta spostando la scuola e bimbi verranno momentaneamente trasferiti nelle scuole a Via Ficare nella Giovanni XXIII per evitare ulteriori traumi e riprendere prima possibile le attività. Il PM Stafaro Gallo coordina le indagini portate avanti dalla mobile e diretta da Danilo Di Laura. I temi sono tanti sul piatto, c'è anche quello della sicurezza dei cortili delle scuole. Una perizia stabilirà pure la regolarità della cancellata che delimitava il giardino. Si dovrà valutare poi l'esistenza di norme di accesso e sosta al parcheggio. La ASL intanto ha messo a disposizione degli psicologi per seguire i piccoli. Ieri sera in questura sono stati ascoltati diversi testimoni, insegnanti e genitori. Nei prossimi giorni verranno ascoltate anche altre persone e anche la mamma della macchina, molto provata ovviamente. Le testimonianze sono impressionanti. Roberto Santilli è il papà di una bimba che era lì in quel momento, salva solo per una questione di metri. Lei ha visto tutto, perché era in una posizione tale da poter descrivere poi a me, alla mia compagna, quello che ha visto. Ha reagito da quello che capiamo adesso, ha reagito tra virgolette bene, se si può dire così, di fronte a una tragedia di questa portata. Adesso bisogna stare vicino a loro, bisogna stare vicino alle maestre, bisogna stare vicino ai genitori di chi ha perso tutto, bisogna stare vicino ai genitori, ai bimbi che sono ancora in ospedale e speriamo finisca presto nel migliore dei modi questa vicenda. Ci dicono che l'unico modo per evitare traumi è quello di ricominciare subito a vivere tutto quello che si può, perché altrimenti il trauma potrebbe essere ancora più profondo. Era un dovere venire qua a sentire, a vedere purtroppo dove è venuto a mancare Tommaso e pensare quelle creature come me le rivedo io nella mia vita che giocano e all'improvviso ti arriva questo fulmine addosso, guardi, è una cosa impressionante. Quindi veramente non ci sono parole, mi viene solo da piangere, 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 perché penso al bimbo che non c'è più, alla mamma che stava in macchina che ha lasciato l'altro bimbo, quindi questa creatura come si sentirà adesso nella vita? Pensare che se per caso avesse fatto lui qualcosa, che cosa è successo? Quindi è una cosa impossibile.